Salto in alto del mercato della Dinamo che piazza il colpo nello spot di ala titolare. Dalla poi il Galil Gilboa uscito dall'università di Virginia Commonwealth con sede a Richmond classe 96 arriva Justin Tillman. Fu un ambolico atleta con grandi margini di miglioramento per due volte la Summer League di Las Vegas ma non ancora in grado di attirare le sirene NBA. Dopo il college uno sprazio di Corea e G League l'ala cresciuta all'high school di Detroit con cifre pazzesche. Ha fatto il suo debutto in Europa il 7 ottobre 2019 segnando 26 punti con 11 rimbalzi nella winner league israeliana dimostrato di essere giocatore dall'energia, dalla verticalità e dalla capacità di avere impatto nel pitturato davvero sopra la media. Terzo rimbalzista di sempre a VCU è uscito con 18,9 punti e 9,9 rimbalzi di media nel suo anno da senior entrando di diritto nel primo quintetto dell'Atlantic 10 con spiccate doti difensive per la sua esplosività e per la verticalità nelle stoppate. Tillman non ha un grande range di tiro, giocatore prettamente interno che può spostarsi anche nel ruolo di 5 dando la possibilità a coach Pozzecco di mettere in campo un quintetto davvero da corsa. Un piccolo infortunio ha fermato il suo straripante dominio in Israele con il titolo di MVP nel mese di ottobre ma questo non toglie nulla le qualità che può esprimere il giovane americano che può essere il campanello del cambio di ritmo del banco e che aveva tirato le sirene del Partizan già a dicembre e del Bayern Monaco. E' un'altra scommessa mirata da parte della Dynamo che punta forte su un giocatore che può salire di livello, che ha fame di salire al piano di sopra e che vuole misurarsi con un campionato e una Coppa Europea in grado di fargli fare uno step decisivo per la sua carriera. Grazie per la visione!